Benvenuti nella stagione 3 del capitolo 3 di Empero. In questa stagione è possibile acquistare delle proprietà private che sono sparse in giro per la mappa. Inoltre ti aspettano nuovi luoghi estivi da esplorare. Ad esempio la spiaggia di Empero, ubicata nel sud dell'isola. Tra gli altri nuovi biomi c'è anche quello della Mesa. Tra gli altri nuovi biomi c'è anche quello della Mesa. Oppure quello della cenere, formatosi in seguito all'esplosione dei dirigibili dei viaggiatori Ti aspettano nuovi segreti e nuovi misteri da svelare Inoltre è tornato il cristallo, riemerso dopo i numerosi scavi dei viaggiatori Oltre all'arrivo della nuova versione, ovvero la 1.20.1, è disponibile anche la texture ufficiale di Empero E una delle principali novità di questa resource pack sono proprio i coins di Empero Utili per acquistare le proprietà private viste prima Divertiti oppure svela i misteri della stagione 3, capitolo 3 di Empero Grazie a tutti!